In questo periodo molto particolare della storia dell'umanità, sembra quasi che la divina provvidenza non ci abbandoni, anzi ci mette a disposizione degli angeli, oserei proprio dire, degli angeli terreni che attraverso la loro brevissima vita ci insegnano tantissime cose. Questa sera, alla Sera dei Miracoli, ho il piacere di presentarti un'altra mamma speciale, la mamma del bambino Francesco Pio, il bambino del Santo Rosario e tra poco vi racconterò la sua storia, una storia bellissima, ma colgo subito l'occasione per chiamare qui in diretta, insieme a me, la signora Carmela. Buonasera Carmela! Carmela, mi senti? Ecco, siamo in diretta e evidentemente c'è qualche problema di audio. Carmela, mi senti adesso? No, probabilmente c'è qualche interferenza. Carmela, mi senti adesso in questo momento? Ok. Va bene, do da qualche istante alla signora Carmela di ricollegarsi un attimo in mia compagnia, così in modo tale da tornare insieme a noi e raccontarci la sua storia. Va bene, Francesco Pio comunque è un bambino che già dalla nascita ha manifestato un piccolo miracolo, perché la signora Carmela, alla signora Carmela era stato comunque diagnosticato un tumore e i medici l'avevano detto che non poteva avere figli. E invece all'improvviso ha ricevuto il dono della gravidanza e quando è nato Francesco Pio, proprio il medico stesso ha detto alla signora Carmela, signora Carmela guardi che questo è veramente un miracolo. qui è la sera dei miracoli intorno a collegarti con la signora Carmela. Speriamo insomma di riuscire ad avere questo collegamento. Carmela, buonasera, mi senti? Ecco, c'è un ritorno di voce, cosa ha in mente la sua mia, ascolta la mia voce in sentenza. Ok, non mi ascolto, non mi sento Ok, allora Allora, facciamo così No, Giovanna, non sento Ok, adesso noi ti sentiamo benissimo Adesso mi sente? Non la sentiamo Adesso mi sente, Carmela? Allora, volevo semplicemente dire se era possibile Se la signora Carmela non mi sente in questo momento No, Giovanna, niente, non sento Prima ti senti Ti sentiva bene Allora, facciamo così Magari se la signora Carmela non mi sente Però magari chi è vicino a lei Se può chiudere un attimo il collegamento E provare ad entrare di nuovo Dai, ce la faremo prima o poi Ok, provate a chiudere il collegamento Ecco, proviamo a chiudere il collegamento e vediamo se successivamente la signora riesce a collegarsi con noi Intanto io voglio ringraziare tutte le persone che si stanno collegando in questo momento Siete veramente tantissimi Abbiamo già 18 commenti Grazie, grazie veramente di cuore Allora, vi dicevo praticamente Francesco Pio nasce proprio come un miracolo Come una grazia divina della signora Carmela Proprio perché lei non poteva avere figli E, diciamo, all'improvviso Ha avuto questa splendida notizia Che cosa accade successivamente? Già dai primissimi anni di vita Perché comunque Francesco Pio Ha lasciato questa terra All'età di circa 4 anni Ma poi comunque Sarà la signora Carmela A raccontarci Due migliori memorie Da scuola Da sua storia Ma piccolissimo Manifestava Una grandissima sensibilità E soprattutto Aveva un carattere gioioso Ogni volta che lui si rendeva conto Che c'era qualcuno davanti a lui Che magari era un pochettino triste Ne faceva di tutto Per regalargli un sorriso Purtroppo però Dopo un po' di tempo Ci si rende conto Che Francesco Pio Ha una malattia E la signora Carmela Con il suo marito Corono Dalle due speciali Specialisti del paese E dei due specialisti D'Italia Per riuscire a capire Quale fosse Insomma La diagnosi E si rivela Una diagnosi Veramente triste In quanto Francesco Pio Vi aveva ricoverato In ospedale Ed ora subire Diversi interventi Ovviamente La notizia Diventa una notizia Tragica Per la famiglia Perché Ovviamente Iniziano Comunque Inverso di visite Iniziano i ricoveri Iniziano Anche le operazioni Chirurgiche Durante il primo ricovero Però Che cosa succede? Succede che Alla signora Carmela Le viene Recapitata Una foto La foto del battesimo Di Francesco Pio E da quel momento Questa foto È una foto Particolarissima Perché Si vede L'acqua Battesimale Che Vanna Al capo Di Francesco Pio Ma che Forma La corona Del santo rosario Il santo rosario È una delle Caratteristiche Che appartengono A Francesco Pio Infatti Non a caso Si chiama proprio Il bambino Del santo rosario Voglio vedere Se la signora Carmela È riuscita a collegarsi Con noi Carmela Buonasera Buonasera Giovanna Ce l'abbiamo fatta Finalmente Ce l'abbiamo fatta Buonasera Buonasera a tutti Carmela Io Ecco Ho anticipato Un pochettino La tua La tua storia La storia Di Francesco Pio Però Voglio fare Un passo indietro Perché Sinceramente Raccontata da te Sinceramente È tutta Un'altra cosa Torniamo indietro Di qualche anno Quando Praticamente All'improvviso Ti viene diagnosticato Un tumore Anzi In realtà Sono stati Due tumori Consecutivi Nel cellulero A distanza di sei mesi L'uno dall'altro Mamma mia E quindi Il medico Ti ha detto Che praticamente Non Non avessi Io non potevo Avere Dopo aver fatto Praticamente Nella seconda Gravidanza Siccome i valori Erano altissimi E facendo Neuografia Il dottore Mi disse Che dovevo Comunque Ricoverarmi Subito Il raschiamento Perché era in atto Una mola vescicolare Quindi un tumore E allora Dopo Insomma Aver subito L'intervento Il dottore Fu molto chiaro Nel dirmi Che non avrei potuto avere Un'altra Gravidanza Perché l'utero Era stato compromesso Quindi Cioè Quel forte desiderio Di avere Comunque Un altro bimbo Dovevo rimuoverlo Dal mio cuore Perché Infatti Io per tanto tempo Poi non 9 anni Che si chiama Giussi E quindi Poi invece All'improvviso All'improvviso Arriva questa bella notizia Sì È stata molto inaspettata Perché Non era in programma Sapendo che Non poteva avere Altre gravidanze Quindi quando Feci Praticamente Direttamente La beta L'analista Mi disse Che Signora Carmela È incinta Io Cioè Uscì Dal Laboratorio Di analisi Piangendo Perché Per me Era un Udente Infatti Ho sempre Detto Che Francesca È stato Il mio Miracolo Perché Anche il Ginecologo Quando Mi visitò Mi disse Appena scendi Dallo studio Vai in chiesa Ci rinuncerà La Madonna Perché Tu non puoi Avere figli Quindi È stato un Miracolo Da subito Lui Il mio Miracolo Io l'ho Sempre definito Così E poi Quando Poi c'è stata Propriamente Questa nascita Questa Questa Gravidanza Un po' Travagliata Ma poi La mia Gravidanza È stata Molto Travagliata Che ha avuto Diverse Complicanze All'incirca Nel quarto Mese Francesco Si era Praticamente Appoggiato Sul fegato Facendomi Avere sempre La bilirubina Alta Ho avuto Littero Ho dovuto Fare Tantissime Cure Sono dovuta Ricorrere Comunque A frequenti Lavaggi E quant'altro Quindi Era un po' Terrorizzata Da tutto Questo medicinale Che prendevo Fino a che Quando Sono andata A partorire Francesco Io ho fatto Un taglio Cesareo Francesco Nacque Tutto bianco Mi spaventai E mi spaventai No E mi spaventai Dottore Ma che succede Mi disse Carmela Niente Stai tranquilla Francesco È nato Nella sacca Vitelina Ed è sanissimo Quindi Non ha assorbito Tutte le medicine Fortunatamente Quindi Cioè Era un altro segno Che lui mi dava Della sua forza Del suo voler Nascere fortemente Perché lui è voluto Fortemente Nascere E questo nome Francesco Pio È stato Scelto Però dalla sorella Pio Sì Perché Sì Giù si Ha voluto Fortemente Che Francesco Si chiamasse Come padre Pio E quindi Decidemmo Di chiamarlo Francesco Pio E poi Proprio in Quell'anno Quando io Ho fatto Poi la Strutturale Non Dimenticherò Mai Ci fu L'elezione Di Papa Francesco E Anche quello Per me È stato Un segno Perché Francesco Portava Anche Il nome Del Papa Quindi Tutti i piccoli Segni Che poi Con il tempo Io Ho messo Ho collegato Tutto il puzzle Tutto il puzzle L'ho messo Insieme Infatti Uno dei segni Più Belli Forse È proprio Il giorno Del battesimo Quando E si può Vedere Nella Caratteristica Foda L'acqua Battesimale Sembra Vendere Forma Di Isario Sì Quella foto Però Noi L'abbiamo Scoperta Un giorno Fa Non buono Per noi Nel senso Che Quella foto Del battesimo Che Era una foto Per me Qualunque Il giorno In cui Francesco Pio È stato Operato D'urgenza Per questo Tumore Alla Colonna Vertebrale Mi fu Inviata Da una Mia Amica E disse Guarda Cosa c'è Sul capo Di tuo Figlio Praticamente L'acqua Battesimale Sul capo Di Francesco Formava Il rosario Tutte Le goccioline Dell'acqua Battesimale Davano Forma A un Rosario E Dalla foto Quando Si ingrandisce Si vede Proprio Perfettamente La sagoma Di un santo Rosario Poi Questo Rosario Carmela Ha Una Particolare Importanza Nella storia Questo Rosario Poi ci ha Accompagnato Ci ha Accompagnato Ancora Oggi Il giorno Francesco Abbiamo iniziato A scorgere I segni Della tua Malattia I primi Di Ottobre Quando Ha iniziato Ad avere Un po' Dei dolori Nelle gambe Che Venivano Un po' Attribuiti A un'unghia Incarnita Che lui Aveva Però Dopo aver curato Comunque Quest'unghia Lui continuava Ad avere Questi dolori Portandole Da diversi Specialisti Facendo Diversi Esami E Riscontrammo Che non era Una cosa Insomma Da Tutopattare E L'orstopedico Ci prenotò Una Riccia Di In Tanto Bono Con Un Ortopedico E Un Neuro Specializzato E Quando L'esito Degli esami Fu Fausto Proprio Perché Francesco Pia aveva Un tumore Nella colonna Vertebrale Di Circa 15 Centimetri Che Comprimeva Comunque Sui nervi Delle gambe Non gli Permetteva Più Di Camminare Infatti Francesco Negli ultimi 15-20 Giorni Non Camminava Solo Se Trattenuto Con Le Inizio Di Animazione Ci Dissero Che Era Inutile Aspettare Di Fuori Perché Qualsia Di Cosa Comunque Ci Avrebbero Contattato Certo Devastante Perché La Mente Pensa Tante Corte Questo Bimbo Tanto Desiderato Un Bimbo Sanissimo Che Non Ha Mai Avuto Nessun Tipo Di Problema Di Salute All'improvviso Te Lo Ritrovi In Una Sala Operatoria E Non Riesci A Capire Cosa Ti Stia Succedendo Cosa Stia Succedendo Intorno A Te Ti Cade Il Mondo Addosso Il Giorno Dopo Noi Eravamo Comunque In Di Primo Mattino Eravamo In Ospedale E Praticamente Il Passo Del Dottore Che Aveva Finato Ci Disse Che Francesco Aveva Trascusso Un' Ottima Notte E Nel Primo Pomeriggio Ce l'avrebbero Purtato In Camera Perché Avevano Fatto Una Risonanza Di Controllo E L'esito In Affatto Di Francesco Moviva Di Nuovo L'età Anche Non era Comunque Del Il Nero Non era Stato 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 Perché Avevano Sanguinanti Dovevamo Poi Assessare L'esito Degli Esami E La Cosa Che Più Mi Ha Spiazzato Quando Francesco È Arrivato In Camera E Lui Era Ancora Semisedato E Praticamente Mi Parlava Con Un Filo Di Voce E Io Dissi Francesco Come Ti Senti Lui Sussurrava Diceva Bene E Io Continuavo Francesco Mamma Non Non Si Mai Mossa Da Qua Lui Mi Guardò Con Quegli Occhi Ti Parlavano A Posto E Mi Disse Buggiazza Francesco Mi Mi Spiazzò Mi Non Avevo parole Da Degli Io In quel Frangente Stringevo Tra le Mani Un Rosario Di Mitigori Che Mi Ero Fatta Portare La Mia Torella E Io Non So Come Lui Ha Fatto Entra Vedere Questo Rosario Tra Le Stato Il Suo Compagno Di Viaggio Che Ancora Oggi L'accompagna E Accompagna Noi Tanti Di Qual Era La Tua Fede Carmela Prima Prima Della Nascita Di Francesco E Anche Era Una Fede Poco Ero Sono Sempre Stata Credente Ma Poco Praticante Giusto Nelle Ricorrenze Ecco Non Non Era Mi Abitudine Recitare Il Santo Rosario I Mie Figli Non Mi Hanno Mai Sentito Recitare Il Rosario Anzi Anche Durante I Primi Periodi Della Malattia Di Francesco Era Lui A Guidare Me Ma Io Ero Molto Arrabbiata Era Lui Che Guidava Me A Quello Che La Fede Non Era Quella Di Ottimo Quella Lui Così Piccolo Mi Ha Fatto Sentire Piccolissima Perché Era così Grande La sua Fede Il suo Amore Verso La sua Mamma Che Mi Spiazzava Ogni Forsa Che Mi Diceva E mi raccontava qualcosa E come ti raccontava Perché poi Tra l'altro Lui ti ha raccontato Di aver conosciuto Quest'altra Mamma E poi Lui Così La chiamava L'altra Mamma Tutto Inizia Proprio Con Questo Rosario Francesco Si Aggravò E Partimmo Per Genova E Diciamo Che Già Qua Durante Il Periodo Della Malattia Quando Eravamo A casa Francesco Aveva Dei dolori Atroci Molto Forti E Qua Non Faceva Terapia Del Dolore Il suo Soffrire In silenzio Era Disarmante Io Me ne accorgevo Quando lui aveva dolori forti Perché Lui alzava gli occhi al cielo E diceva Gesù Dove sei? Gesù Aiutami Io Lo guardavo Perché io Non riuscivo a chiedere aiuto A Gesù A Maria Io non riuscivo Nemmeno A pensare Perché Per me Tutto quello che mi stava accadendo Stava accadendo Alla mia famiglia Alla mia marita Alla mia figlia Era devastante Io non capivo Come lui Potesse chiedere Aiuto a Gesù Lui così piccolo Poi Che non aveva mai sentito Nemmeno Cioè Lui ha imparato Lava in Maria A scuola Non con me Qua a casa Quindi Era Era spiazzante Poi partimmo Per Genova E Diciamo che È iniziato tutto lì Quando Un giorno Io ero seduta Sulla vottorona Accanto al suo lettino E lui fa Mamma Facciamo le tante avemarie Io lo guardai Cioè Non capivo Cosa voleste dire Con le tante avemarie Quando poi all'improvviso Disse Mamma Facciamo le tante avemarie Che prese il rosario È un semplice rosario di legno Come questo qua Che indossò Io capì che lui voleva fare il rosario E quindi da lì Quanti anni aveva Carmela? Quanti anni aveva? Quattro anni e mezzo circa Non di più A lungo aveva compiuto Quattro anni Stiamo parlando di gennaio Di quattro anni Quindi da lì è iniziato Queste avemarie Non era poi Aveva una buona dialettica Però era comunque un bimbo di quattro anni Quindi si esprimeva a modo suo Ma a modo suo Quelle tante avemarie Scaldavano veramente il cuore E da lì piano piano Poi la sera Quando ci mettevamo nel letto Per dormire Io dormivo sempre nel lettino con lui A volte lo vedevo Che nel sonno rideva Ma sorrideva E allora quando si vedeva E mi diceva Mamma Cosa A come male Mi devi così stare Cioè dire Mamma E' venuta l'altra mamma E io facevo L'altra mamma E chi è l'altra mamma? Sì mamma L'altra mamma E cosa ha detto l'altra mamma? Niente Mamma mi ha portato in un prato verde C'erano altri bimbi con me Non ero da sola Da solo E poi mi ha carezzato E mi ha detto Francesco Tu starei bene Francesco Ogni volta che abbiamo parlato Dell'altra mamma O di Gesù Bambino Non ha mai detto Che sarebbe guarito Non ha mai detto Mamma L'altra mamma Mi ha detto Che io guarirò Ha sempre detto Che lui sarebbe stato bene E oggi realmente Francesco sta bene Sicuramente E fra le braccia Dell'altra mamma E anche durante un esame importante Una scintigrafia ossea Che noi facevamo Sempre a Genova Dopo aver fatto Dovevamo aspettare il tempo del contrasto Per entrare nel macchinario della scintigrafia Dovevano passare all'incirca due ore E lui Stava in un dormiveglia Non dormiva Riposava Ecco E Allora Io dissi Quando lui si svegliò Per fare questo Questo Diciamo Questo esame Io dissi Francesco a mamma Tutto bene? Come stai? E lui disse Sì tutto bene Sto bene Mamma Sai E' venuto Gesù bambino Da me Io lo guardai Che è venuto Da me E Io dissi Come Gesù bambino Io gli chiesi Com'era Gesù bambino E lui mi disse Mamma E' piccolo Piccolo come me E Allora Che mi spiazzò E io dissi Veramente Francesco Sì mamma Mi ha carezzato E mi ha detto Francesco Tu starei bene Quindi Ancora una volta Uno Stare bene Cioè stare bene Poi A un certo punto Quando lui mi parlava Dell'altra mamma E lui mi parlava Andai su internet E cercai Diverse immagini E Gliele mostravo Quando arrivamo All'immagine Della madonina Di Megicore Lui Sobazzò Di sé Ecco la mamma E lei La mia mamma E lei L'altra mamma Io rimasi Veramente Senza parole Perché Francesco Il rosario Che l'ha accompagnato E' stato Il rosario Di Megicore Sotto al capo Ha una maglia Con il volto Della madonina Di Megicore E' come se Lui Avesse avuto Sempre un legame Forte Con questa mamma Forse mi sono Sotto a mamma Ma E' bella Con questa mamma Un altro E' tutto Che è bello Ma Quanto Vieni con Messe In le occhi Dalla E Francesco Pio Aveva Comunque Aveva un po' Di alterazioni Al cuore Per colpa Del chemio Che faceva E Comunque Prima di dimetterci Preferirono Fargli un ecocore Allora la dottoressa Siccome Francesco Era molto restivo Ai contatti Con i dottori Disse Mamma Carmela Stenditi con lui Sul lettino Così lui è tranquillo Perché ci sei tu Accanto Quindi io mi stesi Sul lettino Con lui Accanto a me Ovviamente C'erano nella stanza La dottoressa L'infermiera E c'era mio marito E quando lui si fece fare L'ecocore Con una Veramente In maniera tranquilla E Io Quando lo stavo Sistemando Gli feci complimenti Se Francesco Sei stato bravissima Mamma Sei stato così Bravo Non ho detto nulla E si guardò Ma dice Che a volte Come fare Che io E non so Che sono stato bravo Sul letto Con me Con te C'era anche L'altra mamma E mi ha accarezzato E mi ha detto Che io starò bene Noi ci guardammo Tutti in faccia Insomma Io la dottoressa A mio marito Eravamo Senza parole Perché Sentire Ecco Dirlo Con così Spontaneità Da un bambino Di quattro anni Una frase Del genere Ti lascia per forza Spiazzato Non 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 c'è Spiegazione Hai mai pensato Che quando Lui diceva L'altra mamma Mi dice Che comunque Starò bene Che forse Si ricordiva Una grazia Mi hai mai pensato Sicuramente L'ho pensato L'ho pensato L'ho pensato Facevo io forse Ecco un segno Un segno Ecco forse Ho anche pensato Che per me Doveva essere Un segno Forse per farmi Riavvicinare Alla fede Questa malattia Di mio figlio Poi Piano piano Mi sono Non arresa Però ho capito Che forse Il progetto Era un altro Era un altro Quindi Anche quando Francesco Pio Purtroppo Ha avuto Un arresto Cardiorrespiratorio Io poi Ho inteso Tutto dopo La sera Il giovedì sera Noi eravamo In the hospital Francesco è stato Pochissimo In the hospital All'incirca Dieci giorni Perché poi Ebbe questo Arresto Cardiorrespiratorio E Il giovedì sera Prima dell'arresto Cardiorrespiratorio Francesco Aveva un sopraffiato Molto forte Io chiamai In ospedale E Dissi Ai dottori Se Era il caso Di portarlo Di portarlo Diciamo In ospedale Il dottore disse Non nel caso Mamma Carmela Perché domani Mattina Comunque Devi venire In ospedale E Allora Lui disse Mamma Dormi Nell'estino Con me Io dissi Certo Francesco Il tempo Di sederci Insomma Di metterci Nell'estero Con le sue Mani Sul mio Viso Così Viso A viso Così E disse Mamma Il mio Respiro E il tuo Respiro Il tuo Respiro E il mio Respiro Io ti amo Mamma Noi siamo Sposati Siamo sposati Per l'eternità Io non Capivo Il senso Di quelle parole Però poi Dopo ho compreso Che era il suo Modo di salutarmi Francesco Non mi ha mai Detto Ti voglio bene Mi ha sempre Detto Ti amo E una parola Che io Gli ho sussurrato Dal primo giorno Che ho saputo Che lui Era in me Gliela Dedicavo Una canzone Bellissima Che diceva Proprio Ti amo E gridarlo Vorrei Ma la voce Dell'anima Parla piano Lo sai Quindi Questa canzone È stata Poi Ci ha accompagnato Sempre E ci accompagna Ancora oggi Perché io Continuo a dirgli Che lo amo Come so che lui Continua ad amare Me e la mia famiglia E chi Si aggrappa a lui Oggi Fortemente E la mattina Dopo Francesco Di un arresto Cardio respiratorio Lo portiamo D'urgenza In ospedale E Lo rianimarono Aveva una polmonite In corso E i dottori Ci dissero Che l'avrebbero Comunque Doputo sedare E mettere Nella rianimazione Perché Comunque Doveva All'inizio Gli misero il casco Per provare Ad aiutarlo Nella respirazione Ricordo Però Che Non fu facile Perché Quando arrivai Con mio marito Al gaslini Di pronto soccorso Io Francesco Mi morì in macchina Fra le mie braccia Io lo posai Sul lettino Dell'ospedale Era morto Francesco Non respiravo Lo rianimarono E Non capivo Cosa stava Sotto Non ero pronta Non eravamo Cioè Nessuno di noi Era pronto E Non si è mai Pronti A una cosa del genere Però così All'improvviso Il mondo Ti viene a crollare E I dottori Furono bravissimi Come lo sono sempre stati Lo rianimarono Lui si svegliò E La prima cosa che fece Diciamo Mamma 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 mia Mamma mia Io mi avvicinai Non avere paura Guarda I dottori sono bravissimi Mamma Mamma Non temete Francesco Facevo io Non avere paura Mamma sta qua Mamma non si muove Mamma è vicino a te E I dottori Poi ci chiamarono Ci dissero Che lui aveva Questa polmonita in atto E che comunque Doveva essere Sedato Perché Essendo piccolo Poteva avere Rischio di tirarsi I figli O quant'altro Gli avrebbero dovuto mettere E quindi Lo sedarono E quello fu L'ultimo Saluto Che io E mio marito Abbiamo dato A Francesco Perché poi Da quel momento Francesco Non si è risvegliato più Fu l'ultima volta Che lui Ha detto Mamma E fu l'ultima volta Che vedemmo I suoi magnifici occhi Poi Entrato in rianimazione E dopo Dieci giorni Francesco Più è nato al cielo Il 27 di febbraio Del 2018 Quindi sono esattamente Esattamente Tre anni Tre anni e mezzo Circa Tre anni e mezzo E da quel momento Però Carmela Si è Si è manifestato Già ragione Si è manifestato Si sono manifestati Io direi Tra virgolette Dei miracoli Perché poi Come è nata L'intercessione Di Francesco Pio Nei confronti Di queste tante persone Che si rivolgono All'unione Il periodo In cui Francesco Pio Noi eravamo A Genova La mia comunità Qua A Vilaricca Si è smossa Tutta Per pregare Per Francesco E Padre Giuseppe Mi raccontava Sempre che ha visto Entrare persone In chiesa Che non entravano Da anni Per chiedere La guarigione Di Francesco E che Ancora oggi Entrano in chiesa E pregano Francesco Famiglie intere Riunite Facevano cenacoli Di preghiera Per Insomma Per la guarigione Di questo bimbo E Quando noi siamo Tornati a Genova Francesco È stato accolto In un silenzio In un silenzio Che ha Poi Si è rivelato Per quello che doveva essere Francesco Francesco Se ne è andato in silenzio E in silenzio Compie tantissime Io Mi sono Continuata Ho continuato Il mio percorso Di fede Insieme con me E mio marito E Ci siamo Comunque Aggrappati Alla fede Per Non cadere Ecco Nell'angoscia Oggi Noi non siamo Una famiglia Felice Perché sarebbe Una parola Troppo grossa Ma siamo una famiglia Che vive nella serenità Di Che ogni giornata Questo figlio Ci dona E Ogni giorno Questo figlio Ci dona Così tanto Che ci permette Di trasformare Questo dolore In amore In preghiera Per gli altri Oggi Veramente Per tante persone Che chiedono a me Tutto ha inizio Praticamente Noi martedì sera Nella nostra parrocchia Si recita Il santo rosario Comunitario E Alla fine Di questo santo rosario Il nostro parroco Padre Giuseppe Tufo Dice una comunicazione Da fare i genitori Di Francesco Pio E ci dice Che aveva avviato Un iter di canonizzazione Per il nostro Francesco Pio A cui lui aveva affidato Un bambino Che Era in coma irreversibile Perché adesso Va bene E quindi Da lì È partito poi Tutto quanto Insomma Tutto lì per E da quel momento Le testimonianze Che sono arrivate Di una sua intercessione Guarigione Delle tante conversioni Che lui compie Ma sono davvero numerose Tanto che Abbiamo anche Poi Con il tempo Aperto Gruppo e pagina Su Facebook Su Youtube Su Instagram Francesco Pio Apostolo di Maria E del Rosario Dove Vengono Comunque Ogni settimana Viene pubblicata Una testimonianza Di fede Di guarigione Di intercessione Di conversione Tutte le sere Sulla pagina Di Francesco Pio C'è il Rosario Con Francesco Pio Recitato da me E Ci sono tantissime persone Che ci seguono Alle 21 Va tutte le sere Questo Rosario Meraviglioso C'è la storia Raccontata Di Francesco Pio Da me Da padre Giuseppe Appuntate E Ci sono Dei post Delle dediche Fatte da me A mio figlio Per tutto quello Che ci dono Ogni giorno E quindi Uno dei più grandi miracoli È stato proprio Prezzo Della tracompersione Sì Sì Ti ha letto Anche Diverse testimonianze Per cui Anche la storia Di un camionista Che Praticamente Sì Quella è stata Proprio recente Sì Abbiamo messo Anche le foto Del camion Senta le dute Qualcosa Di meraviglioso Ma anche Testimonianze Di Mamme Che non potevano Avere figli Una di queste Mia sorella Dopo dieci anni Francesco Andò Gli andò proprio In sogno A dirglielo Insomma E poi è nato Il mio nipotino Emanuele Emanuele E Un miracolo Meraviglioso Ma tante Veramente tante Di persone Che erano lontane Lontanissime Dalla fede Questo bambino Dicono Dicono sempre Che questo bambino Con i suoi occhi Ruba il cuore E Anche Dove Sepporto Francesco Pio Ormai È un Non è È un luogo Di preghiera Sì È un luogo C'è di tutto Dalle macchinine Ai palloni I peluche Pupazzi E poi Anche lì Ci sono tanti Bigliettini Di ringraziamento Per la sua intercessione Per le grazie Che poi hanno testimoniato Tanto 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 Carmela Come vedi Adesso questo Diciamo Processo Di canonizzazione Questo è così Che È questo Il processo Che sta dando Questo Parolo Con molta cautela Con molta cautela E con tanta serenità Perché A prescindere Da tutto Io credo Che Io essendo La mamma Di Francesco Pio Essendo Francesco Pio Un bimbo di 4 anni Penso sempre Che Un bimbo così piccolo Insomma Non Non abbia Peccati Così gravi Quindi per me Era già santo A prescindere Da tutto questo Insomma E quindi Io sono molto serena Come All'epoca Ho detto Al Signore Signore Sia fatta la tua E non la mia volontà E ho chiesto A tutta la mia famiglia Di non trattenere Francesco Di accompagnare Quello che dovrai Certo Ancora oggi Io dico Signore Sia fatta la tua E non la mia volontà E chiedo a tutti Sul gruppo Sui social di Francesco Così che potranno Vedere anche loro Con i propri occhi Insomma Quello che Questo piccolino Fa Perché fa tanto E poi I suoi occhi Parlano Anche se Il gruppo La pagina di Francesco Pio Su Youtube E poi Abbiamo anche Noi Il nostro sacerdote Ha scritto anche Una bellissima Preghiera di intercessione Per Che Si può trovare Sulle varie pagine Di Francesco Pio E si può anche scaricare Una preghiera di intercessione Che si recita Prima Del Santo Rosario E Una bellissima preghiera Rivolta A Francesco Pio Che possa intercedere Presso la Sua mamma Che Insomma Possa Aiutare Tutte Queste persone Che si rivolgono A lui E io Mi unisco A questo A questo Appello Carmela Allora io ti invito Dopo la diretta Ecco Purtesemente A rileggere Tutti i saluti Che ti stanno scrivendo In questo momento Perché sono dei saluti Rivolte a te E voi Ti vengono La preghiera di Francesco Pio In diretta Certamente Se ti va La leggiamo Certo Ecco qua Un minuto che la prendo Tranquilla Amici Io veramente Intanto È d'attesa che torna La signora Carmela Vi ringrazio Vi ringrazio Perché questa sera Siete numeratissimi Vi invito Quindi a seguire La signora Carmela Il centro rosario Per l'intercessione E l'intercessione Dicata proprio A Francesco Pio Ecco Ascoltiamo La preghiera Per l'intercessione Di Francesco Pio Posso? Vai Carmela Eterno Padre Eterno Padre E il suo candore E il suo candore Ci rassicurano Il cuore di Dio Che vive degna Nei secoli eterni Amen Grazie Carmela Grazie a te Giovanna È stato un piacere Grazie a tutte le persone Che hanno avuto Un pensiero per me E per il nostro Francesco Pio E le persone Sono veramente Veramente tante Io ecco Terminata la diretta Veramente ti invito A leggere i loro commenti Certamente Andrò sicuramente Appena finita la diretta Sicuramente Grazie Grazie Carmela Grazie a te Giovanna Sei stata veramente Squisita e gentile Grazie Ti aspetto Ti invito a tornare A nostra compagnia Così Continueremo Ok Continueremo a parlare Di Francesco Pio E anche delle novità Ok Certamente Buonasera La Carmela Buonasera Giovanna Buonasera Grazie a tutti Buonasera Amici Io vi ringrazio Vi ringrazio Per essere stati con me Questa sera Nella terza puntata Della sera Della sera Della miracoli Veramente siete stati Tantissimi E' sempre un piacere Dicevere I vostri saluti I vostri commenti E soprattutto Sapere che comunque Ci servite Con tanto amore Io vi invito A tornare La prossima settimana Perché saremo In compagnia Della sindonologa Emanuella Barinelli Quindi parleremo Della sacra sindone Vi ricordo Questo programma E' scritto Dall'autore Renato Spaziani Quindi vi ringrazio A tutti coloro Che collaborano Dietro le pinte Per la buona riuscita Dei nostri progetti Di SGM RS Production Buonasera Da tutti Vi aspetto La prossima settimana Per parlare Della sacra sindone A presto Di SGM Di SGM Di SGM Di SGM Grazie a tutti.